E salve ragazzi e ragazze, come va? Spero tutto bene, benvenuti in un nuovo video. Per chi raga non mi conoscesse, io mi chiamo Nicolas e oltre a essere un makeup lover che ha toppato questo trucco, sono anche un parrucchiere. Prima di cominciare col video vi ricordo che se avete voglia e avete il piacere qua trovate il mio profilo Instagram. Se vi fa piacere raga taggatemi nelle storie mentre guardate i miei video perché è una cosa che mi fa sempre super piacere e cerco sempre di rispondere a tutti nonostante i miei direct stiano impazzendo. Allora raga vi anticipo già che questo video reaction sarà diverso dal solito. Cosa voglio dire? Che mi sta squillando il telefono. Aspettate che lo metto silenzioso. A parte questo cosa voglio dire? Che l'altro giorno mi arrivò un messaggio da parte di una di voi che mi dice Nico avrei una tipologia di video da proporti e io sì assolutamente dimmi. Questa ragazza mi invia un audio che ora vado a farvi ascoltare. Ciao Nicolas, ho iniziato a seguire da poco su YouTube. Mi piace veramente la tipologia di video che porti, cioè le reaction dai consigli, comunque su cosa fare. Non so, ti andrebbe di fare un video così sull'esperienza di tipo una tua iscritta tipo io perché magari raccontando la mia esperienza non succede agli altri perché sendo da una parrucchiera ho chiesto qualcosa e mi ha fatto tutt'altro. E niente raga, quindi questa che è stata una proposta da parte di questa ragazza di cui ovviamente oscurerò il nome perché non voglio che la sua privacy venga coinvolta. Mi è piaciuta tantissimo, quindi ho detto ok, sapete che vi dico? Io lo faccio. Quindi assolutamente raga, questo è un video diverso dal solito, lo ripeto ancora una volta, è un video nel quale io reagisco a un racconto fatto da una di voi tramite delle foto, tramite dei vocali. Andiamo un attimino ad aiutare una di voi. Ecco qua, sono spostato, quindi io direi di farvi ascoltare e ovviamente vedere tutto ciò che vedo io dal mio iPhone. Allora, io naturalmente ho i capelli castani e ricci. Verso la fine del 2018, inizio 2019, mi è venuta la voglia, la pazzia di andarmi a fare i capelli di grigio, comunque perché li vedevo su Instagram. Allora, sono andata da questa parrucchiera, comunque economica, e io ho detto, allora voglio i capelli grigi, ma solo verso la fine dei capelli, nel senso voglio che ci siano i miei capelli e poi sfumato grigio, in modo che poi non devo andarmi a fare ogni volta la ricrescita, anche perché mi stanco subito. Quindi ho detto sì sì, tutto a posto, non ti preoccupare. Sono andata nel giorno prestabilito e ho iniziato a fare la decolorazione. Allora raga, già qua mi fermo, perché io direi di un attimino di analizzare ciò che mi ha detto la ragazza. La ragazza ha appunto dei capelli castani, che poi bisogna capire se questo castano è un castano da un punto di vista effettivamente della colorimetria o è un castano perché pensa di avere un castano. Una cosa raga che non so se vi ho mai detto è che il grigio è uno di quei colori che necessita una base platino. Inoltre raga necessita quindi che i capelli siano bianchi per attaccare bene, altrimenti in alcune parti rimane giallo. E poi un'altra cosa super importante per quanto riguarda il grigio è il fatto che il grigio scarica subito. Il grigio è uno di quei colori che dura una settimana, massimo una settimana e mezzo, e che poi va subito via. Quindi sono queste delle cose da tenere super a mente quando una persona pensa di volersi fare il grigio. I capelli devono essere bianchi, devono essere schiariti al platino e questo comporta ovviamente un danno per il capello. Andiamo avanti, vediamo un attimo che succede. Allora c'è una foto. Vediamo un attimino la foto. Ok, questi sono i capelli di partenza della ragazza. Ok, andiamo avanti con l'audio. Quindi ha iniziato a mettere il decolorante, ha messo la carta stagnola. Quando ha finito, ho visto che i capelli erano biondi e mi ha detto sì, sì, ci vogliono tante decolorazioni per arrivare al colore che vuoi tu. Comunque poi quando è, vienitelo completo. Mi ha fatto con la spazzola i capelli lisci, asciugati col fono e poi me li ha piastrati. Ho notato che c'era uno stacco troppo netto tra castano e poi biondo. E alla fine non ci sono andata più e mi sono tenuta i capelli biondi e me li sono fatta ricci perché tanto stacco su per giù non se ne vedevano quei capelli ricci. Ok, vediamo questi capelli come erano. Ok, andiamo avanti. Comunque sono stata un po' di tempo con questo biondo che poi di dietro erano bianchi perché era stata fatta che tipo... Gli di dietro erano stati un po' più tempo quindi sono diventati bianchi comunque. Ho detto vabbè andiamo, sono stata un po' di tempo quindi verso febbraio-marzo 2019 sono andata da questa parrucchiera costosa, un po' costosa. Io ho detto senti, me li potresti aggiustare comunque volevo fatti i capelli grigli, ho spiegato la situazione e mi ha detto No, guarda, sono molto dispiaciuta per te, per questa mia collega cosa ti ha fatto di arrovinare... Io mi spacco già, raga, per la voce, mi sto sentendo male. Mi ha fatto di arrovinare i capelli, non ti preoccupare ci penso io e li sistemiamo tutta così. Raga, già quando iniziano con te li sistemo io, tranquilla, va a finire male, finisce che fa peggio di quella precedente. Comunque io ho spiegato che volevo fatto sempre lasciata i miei capelli, sfumatura e poi i capelli grigi e mi ha detto sì sì, non ti preoccupare. Allora iniziamo con la prima decolorazione che me ne ha fatte due, siamo state lì tipo cinque ore fino a tardi di sera e mi ha detto... Avevo i capelli biondi, bianchi comunque e mi ha detto ci vuole un'altra decolorazione che la facciamo domani. Quindi domani mattina puoi venire, non vai a scuola e ti faccio io l'altra decolorazione e poi entro pomeriggio avrai tutti i capelli sistemati, grigi come vuoi tu. Già qua io non so che dire veramente, io a questo punto mi chiedo ma che cosa passa nella testa delle persone, non tanto della ragazza perché comunque io la capisco la ragazza, è una persona come tutti che se non si intende di capelli eccetera si sta parlando appunto di ignoranza, sta nel parrucchiere capire e dire soprattutto determinate cose che in questo caso non sono state dette. Allora raga già la persona aveva appunto questa sorta di bande, che bello raga guardate quando escono queste bande tra il castano e il biondo e la linea netta, che vi posso dire di concreto che se una persona ha già i capelli rovinati, appunto che ha già i capelli rovinati quello che io farei è tagliare maschera in pacco, un trattamento e via, non che gli ride colori e ci penso io. Inoltre raga un'altra cosa volevo dire, la prima parrucchiera appunto ha lasciato di più le schieriture nella parte di dietro che dunque hanno schierito di più. Per raga molte volte sopperire a questa cosa quello che io vi consiglio è di cambiare i volumi semplicemente, cioè io lavoro così nel senso che magari faccio a 10 volumi la parte dietro e davanti a 20 in modo tale che poi la schieritura nel complesso possa uscire uniforme, non che dietro sono più chiara e davanti sono scura. Raga questo racconto sta facendo horror, ve lo dico. Ui a Gesù il signore benedetto santissimo, raga è gialla, ma poi i capelli, non vabbè ma voi, no dai. Tesoro tu che so che mi stai guardando mi spiace tantissimo, sei capitata dalla signora che si taglia i capelli col coltello, evidentemente perché è la stessa, è la sorella di quella. Andiamo avanti, che è meglio? Comunque io di capelli con barocchiera non ne capivo niente, cioè sapevo che ci volevo tante decolorazioni ma poi mi sono informata e ho visto che per arrivare al grigio che volevo io comunque un grigio bello ci volevo tante decolorazioni ma fatte in tanti tempi diversi. Comunque il giorno dopo sono tornata lì e mi ha messo in posa e ho fatto la decolorazione. Poi dopo un paio, un'ora comunque, un'ora e mezza quando dovevo stare in posa ho incominciato a fare il colore grigio e tutto quanto. Mi ha messo il colore. Dopo quando ho finito di stare in posa con il colore, mi ha messo a lavare la testa e mi sbigliava con la sua collega dicendo Ah ma qua è rimasto giallo, ma qui è, ma come facciamo, come, che cosa devi fare. Boh, e mi è, io comunque l'avevo sentito. Mi prende e fa, ah sì ma ti dobbiamo mettere in posa di nuovo con il colore grigio. Mi esce in posa, si fa ora di pranzo, sono stata dalle otto di mattina, da quando ho aperto fino a pranzo, con il colore in destra comunque. Dopo ha visto che il giallo, mi sono accorta che aveva una faccia strana, quindi ha detto tipo il giallo era ancora rimasto. Quindi cosa ha fatto? Mi ha messo lo shampoo anti giallo comunque tante volte nel sciacquare. Infatti mi facciava male il collo in un modo assurdo. No raga, allora io prima di andare avanti non ci voglio credere, vi dico la verità, voglio piangere al posto suo. Ma perché raga, io mi chiedo una cosa a questi parrucchieri, è così difficile dire la verità? Nel senso che è una cosa sulla quale io ci ho sbattuto la testa, però è una cosa sulla quale ho imparato. E' sempre meglio dire la verità alla cliente piuttosto che mentirli spudoratamente. In questo caso la persona è ovviamente stata presa in giro, oltre che ad averle rovinato i capelli. Andiamo avanti che è meglio. Io sono sconcertato raga. Poi quell'immagine con i capelli gialli crespi come il signore Gesù. E comunque poi mi ha messo, perché i gialli continuano a restare, mi ha messo lo shampoo colorato grigio. Che non so che reazione ha fatto, e i capelli sono diventati tutto tanne che grigio. Nooo, Santa Maria Goretti. Comunque, dopo tutto questo, aveva finito, dopo averli scioccati, mi incomincio ad asciugare i capelli. E gli ho detto, scusami, i capelli non sono grigi. A me non sembrano grigi, sono blu, verdi, gialli, azzurri, un po' grigi. Nooo, ma che dici sarà? Perché qua dentro c'è un po' di buio, la luce è diversa, quindi non lo vedi bene. Aspetta che usciamo. Siamo usciti fuori, ho detto, no, io continuo a vederli di quei colori. Mi fa una foto, la mette su Instagram, tutte i capelli grigi. Ci ho messo tipo, sparaflesciato un sacco di effetti, in modo che sembrassero grigi. Comunque, tutte le signore lì dentro dicevano, no, no, ma sono grigi, com'è che li vai di blu, com'è? No, ma sono grigi. Tutte dare ragione alla parchiera. Ebbè, alleate le signore. Senti, io ti rispetto molto, ma questi non sono capelli grigi, sono blu. Io li vado in questo modo. Mi ha detto, no, vabbè, ma il colore deve scaricare, comunque io. Che deve scaricare. E mi ha fatto un altro shampoo. Tutte queste cose. Visto, visto, il colore è ora scaricato. Non sono più blu. Beh, erano blu. Comunque, di tanti colori. Sì, lì così, dopo queste capelli non asciugati. E me ne sono andata. Anche perché mia madre aveva già pagato. Ma, 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 ma. Quando sono tornata a casa, mi hanno detto, scusami, ma che cosa hai in testa? Ho detto, ma, la parrucchiera dice che questi sono capelli grigi. Crediamoci. Comunque, al primo shampoo, li avevo asciugati ed erano crespissimi. Non ci credo, erano morti quelli. Vabbè, giusto dopo il primo shampoo, ho detto, va, li provo a fare ricci. Ma non potevo neanche farli ricci, perché si notava ancora di più che erano di miliardi di colori. Ma soprattutto il riccio probabilmente non c'era neanche. Santa Maria d'Itria prega per noi, andiamo avanti. Ho deciso che, comunque, durante la settimana mi sarei fatta per un po' i capelli lisci e poi mi sarei fatta fare nella mia amica ogni volta le trecce che partivano dalla testa, comunque le due trecce, comunque, beh, avevano un aspetto decente, non dico carino, comunque, oppure me li facevo lisci, perché io non è che potevo andare due, tre volte a settimana ad andare a lavare i capelli, poi farli col fono, poi piastrarli, così li andavo a stressare troppo. Ma poi quei capelli hanno la croce. Santa Maria Barbara prega per noi, cioè mi sento nella via Crucis, raga. No, vabbè, io non ci credo. Comunque, andiamo avanti, poi commentiamo e commentiamo tranquilli. Comunque, passava il tempo, i capelli, comunque, diventavano sempre più gialli anche, lo vedevo. Comunque, io ogni volta che ho fatto lo shampoo, ci passavo lo shampoo anti-giallo. Comunque, ho fatto anche maschere alla caratina, comunque, tante maschere per ristrutturarlo. Comunque, lo shampoo anti-giallo è una di quelle cose di cui non bisogna abusare, perché crea irritazione nelle persone, non è come un normale shampoo, ma viola. È uno shampoo che è un pH diverso, è utilizzato di continuo, vi può creare allergia. No, raga, ma questi capelli, veramente? No, non ci credo. Andiamo avanti. Giusto, mano a mano li andavo tagliando per, appunto, eliminare il colore. Non ho deciso di farci più niente, nel senso, tutti mi dicevano, no, ma ritorna al castano. E io ho detto, no, basta, me li faccio crescere, perché anche così io, una cosa mia, andavo vedendo crescere i capelli. Infatti mi sono fatta una foto ogni volta per la ricrescita, per vedere quanto mancava. Mano a mano il colore si andava scaricando, sono arrivata ad essere, tipo, bianco, giallo, verde. Durante questa quarantena mi è venuta anche una pazzia di tagliarmi i capelli da sola, anche perché non ce li facevo più a vederli, perché era ogni volta... Ah, ma? Difficie, perché erano lunghi e quindi sono allungati, quindi era anche scomodo ogni volta o piastrare o sistemarli. Quindi ho deciso di tagliarli corti. Questa quarantena vi sta facendo male, comunque, eh. Ecco la bellissima sfumatura, raga. Ma tu da parrucchiere ovviamente non approvi che abbia tagliato i capelli da sola per più. Dopo che finisce questa quarantena andrò da un parrucchiere e me li farò tagliare. Penso che non ne... Cioè, dopo questa esperienza già non volevo farne mai più capelli colorati, né farci niente, perché comunque i capelli miei castani, ricci, sono bellissimi. E ho imparato ad apprezzarmi, apprezzarne il valore solo adesso, che non ce li ho più. E basta, è questa la mia storia. Grazie per avermi dato la possibilità di fare un video, cioè, fare una reaction appunto alla mia esperienza in modo che altre persone non possono fare lo stesso errore e stiano più attenti ad andare da una parrucchiera comunque affidabile. Grazie ancora, un bacio, ciao. Allora tesoro, grazie mille a te, ti mando un grande bacio e spero che tu possa stare bene in questa quarantena. Mi riposiziono al centro perché c'è tanto di cui parlare. Innanzitutto dall'incapacità della prima parrucchiera. Parliamo della prima parrucchiera. Sono rimasto sconvolto perché, poi magari vi lascio di nuovo le foto qua a fianco, perché, raga, cioè, c'era proprio, sembravo una goleador, tesoro mio, perdonami. Metà castana, l'altra metà bionda. Senza nessun tipo di sfumatura, cioè, sfumare proprio è una parola nuova in questo ambito. Già sono rimasto sconvolto lì. Ma la seconda parrucchiera, stai tranquilla, non te li rovino. E ha fatto 20 volte peggio della precedente, cioè, proprio, applauso. No, raga, io sono rimasto veramente abbasito. E mi spiace tanto che ci siano delle persone così fuori, perché, poi, secondo me, quello che va a danneggiare è il tutto. Cioè, cosa voglio dire? Che il fatto che questa ragazza si sia trovata male crea, appunto, un dispiacere. Spinge anche, diciamo così, la persona a non volersi più colorare i capelli, perché, automaticamente, colorarsi i capelli vuol dire rovinarli. E io, da questo punto di vista, non penso che questa cosa sia vera. Io penso che, se le cose sono fatte con criterio e con decenza, i capelli possono risultare decenti, se possiamo dire così. Io, per esempio, oggi, questo è l'esempio lampante. Non so quanto potrete vedere, perché ho tante luci attorno. Sto cercando di capire bene le posizioni della macchina fotografica. A parte questo, raga, come potete vedere, i miei capelli non hanno nessun tipo di... Non sono crespi, non sono secchi, non sono messi male. Anzi, raga, io, considerate che non li ho neanche piastrati oggi. Li ho solamente asciugati col phon stamattina. Non li ho fatto assolutamente nulla. Mentre, invece, tante volte mi capita di vedere su YouTube persone che hanno... Vedete, i capelli sono morbidissimi. Li vedete così. E quando i capelli sono così, raga, c'è solo un metodo che bisogna tagliare. Analizzando la situazione, non mi è piaciuto neanche il comportamento della parrucchiera, la quale avrebbe dovuto, secondo me, dire subito la verità. Chiarire insieme con la ragazza, guarda, purtroppo non è uscito il risultato che speravi. Grigi non li possiamo fare. C'è qualche altro colore, magari, che ti interesserebbe, che ti piace, perché al grigio, purtroppo, non ci arriva. E voleva proprio inventare una scusa. Inventala, almeno, decente. Una scusa che effettivamente abbia senso, non una scusa accampata per aria, tipo gli asini che volano. Quello che mi dà fastidio è che ci sono persone che lavorano effettivamente così. E questo mi dà fastidio, raga, devo essere onesto. Io mi chiedo perché le persone, da questo punto di vista, non si aggiornino. Perché le persone devono andare ad aprire saloni, a rovinare i capelli e le persone. Io penso che la cosa più importante, anche la prima cosa, sia quella di mettersi una mano sulla coscienza e capire che cosa una persona sa fare e che cosa una persona non sa fare. Quando il lavoro non è alla tua portata, rinuncia, semplicemente. Non è tipo, ah sì, dai, li facciamo così, io faccio qualche soldo in più e gli spillo dei soldi. Ma penso che il benessere anche della persona e del capello sia alla base di tutto, oltre ai soldi. Una cosa forse importante è come avrei agito io in una situazione del genere. Sicuramente quello che avrei fatto è iniziare con delle schiariture leggere. Delle schiariture magari sì, un po' biondine, ma non eccessivamente. E soprattutto sfumate. Una volta fatto quello avrei fatto passare circa 3-4 mesi e avrei fatto delle schiariture o sempre a bassissimi volumi, ancora un pochino più chiare. E pian piano, sempre con questo metodo, arrivare alla tonalità desiderata. C'è anche da considerare una cosa, che comunque, facendo il lavoro di sfumatura, in questo modo, ci sarà sempre una parte che rimarrà gialla. Perché? Perché nel momento in cui tu vai a sfumare il decolorante, il decolorante non è pieno e dunque, proprio il fatto che sia sfumato, gli impedisce di schiarire quanto magari schiariscono le altre zone. Quindi, secondo me, ci sarebbe dovuta essere innanzitutto la mano sulla coscienza da parte della persona e dire, guarda, i capelli non te li posso fare. Mi spiace veramente tanto. Lascio a voi i commenti qua sotto. E quindi, niente, raga, questo è tutto per il video di oggi. Spero che possa essere un video, diciamo così, che vi è interessato e un video differente rispetto al solito. Fatemi sapere se magari ogni tanto volete che io porti queste tipologie di video, delle tipologie di video in cui io sono più a contatto con voi della community e dove magari vi do dei consigli. Spero appunto di essere stato utile in questo video, di aver dato un po' di consigli e soprattutto di aver chiarito il fatto che non tutti possono avere i capelli grigi. E niente, non vi preoccupate perché arriverà sicuramente la prossima settimana un video sulla colorimetria, nel quale vi spiego com'è la colorimetria e non secondo parrucchieri inventate, ma secondo quelle che sono le leggi della chimica. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!